questo capolavoro racconta la storia vera di una donna inglese anna leon owens arrivata in siam nel 1860 per insegnare alla corte del re sebbene all'inizio siano molti i punti di disaccordo con il cociuto monarca alla fine i due scoprono che è più facile tentare di capirsi e cercare di cambiarsi l'un l'altro